Questa iniziativa con i poli di innovazione ritengo sia un'iniziativa molto molto importante in collaborazione con l'azienda regionale delle attività produttive, fondamentalmente si passa alla fase 2. Noi abbiamo passato il 2020 e il 2021 ad acquisire know-how, avere rapporti con chi aveva le tecnologie, siamo stati all'Expo Universale a Dubai e siamo entrati come Arap all'interno del più grande contenitore delle rinnovabili che è DI Desert Energy. Oggi è arrivata la fase 2 perché la tecnologia va praticamente portata sul territorio, portata alle imprese e vanno fatti i progetti. Noi come Arap abbiamo vinto il primo bando europeo per quanto riguarda l'utilizzo delle aree industriali dismesse per fare i primi impianti di produzione di idrogeno. Oggi si passa una fase diversa, attraverso il COP28 a Riad abbiamo portato le imprese, abbiamo portato tutti i portatori di interesse perché è arrivato anche il momento di ragionare su ciò che serve alle imprese. Ad esempio a Riad abbiamo portato anche i 3-4 gruppi più importanti a livello regionale, tra questi il gruppo Stellandis perché non ci sono solo i macro progetti per far partire le tecnologie sull'idrogeno a livello europeo ma ci sono adesso anche le esigenze collegate alla transizione ecologica, transizione energetica. Penso dove si fa verniciatura nelle linee dell'automotive, penso alle imprese che usano i forni. Quindi si passa a mettere sul tavolo i progetti che servono all'impresa per risparmiare energia, per fare quella transizione che poi passa attraverso la progettazione e l'utilizzo delle tecnologie sull'idrogeno.